rispondo io no grazie scatta la segreteria che sei il ladro acrobata scendi giù c'hai la bandana serve per sudore per sudore hai aperto nulla? non ho avuto tempo suona lei contro il fagotto lo conosci? suona anche mia zia mi faccia andare via lei mi fa paura perché? perché suona contro il fagotto con me e mia zia vai via vai via vai via prendi questa roba prendi prendi sto scatolone metti nel cassonetto capito? non lo lascia per la strada però capito? capito o no? e allora rispondi no? è anche maleducato arrivederci arrivederci grazie